La procura di Larino potrebbe disporre l'autopsia sul cadavere dell'uomo di 48 anni di poggio imperiale trovato nelle campagne di San Martino in Pensilis nella notte del 30 ottobre. Il corpo è stato trovato dai carabinieri sotto un olivo a circa 300 metri dal luogo di ritrovamento di un pick-up vuoto. I militari della compagnia di Larino, coordinati dal Maggiore Raffaele Iacuzio, hanno accertato che il furgone era stato rubato nei giorni scorsi a Campomarino. Sul cassone hanno trovato attrezzi agricoli e altri macchinari spariti proprio da alcune aziende del territorio e in parte già restituiti ai proprietari. Sviluppi nelle indagini seguite dal sostituto Ilaria Toncini della procura frentana che faranno chiarezza sulla vicenda e che puntano da un lato a stabilire il coinvolgimento del 48enne nell'incidente e dall'altro a verificare la presenza di altre persone che potrebbero aver spostato il suo corpo dopo lo schianto. I carabinieri continuano a raccogliere indizi e cercano possibili testimonianze anche da parte degli agricoltori che hanno subito furti negli ultimi tempi. Dall'eventuale autopsia all'obitorio dell'ospedale Santimoteo di Termoli si saprà qualcosa in più mentre le indagini della compagnia di Larino continuano per fare chiarezza sull'accaduto.